Io sono contrarissimo all'alleanza. La devono fare dopo le europee. Paolo Mieli, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese ha in onda sulla 7. Ha detto la sua sull'ipotetica alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Devono andare competitivi alle elezioni. Prendere ognuno il massimo che può prendere. Poi si vede. Ma passare il tempo, oltre che a parlare di Del Mastro, a dire dobbiamo allearci non serve a niente. Ma così la competizione sembra tra di loro. Ha fatto notare la conduttrice. E Mieli ha spiegato. È meglio. Non lo capite? C'è stata una stagione da cui è uscito vincentei centrodestra in cui sempre un partito del centrodestra era al governo e gli altri o all'opposizione e hanno vinto alla fine. Io capisco. È intervenuto allora Pier Luigi Bersani. Anche lui ospite della trasmissione però da qui alle europee. Farsi vedere assieme sul palco sul salario minimo e sulla privatizzazione strisciante della sanità servirebbe a rianimare un po' la gente perché il centrosinistra sta perdendo dal punto di vista della stensione. Anche nelle ultime amministrative. Basta andare a vedere i dati. Si vede che non essendoci una speranza di credibilità di un'alternativa ti sembra un voto inutile. Parole a cui Mieli ha risposto. Si però l'immagine che tu stai là ogni giorno a fare il dialogo. L'alleanza. Portare calenda. Tenere fuori Renzi. Basta. Basta.